Tempo di affari e di gusti europei. Per due weekend di fila il Centro Storico di Piacenza sarà animato con altrettante manifestazioni molto attese dai cittadini, lo sbaracco e il mercato europeo. Si partirà domenica primo settembre dalle ore 9 alle 20 con l'ottava edizione del tradizionale appuntamento commerciale di fine saldi a cui hanno aderito un centinaio di negozi. È la riappertura della stagione del commercio in città quindi abbiamo due eventi molto importanti. Il primo è lo sbaracco che sarà domenica dove circa 100 negozi hanno aderito e quindi siamo molto contenti perché è un'iniziativa che porta tanta gente in città, porta molta attività sul territorio e quindi crediamo che sia un inizio di una stagione importante per il commercio piacentino. Dal 6 all'8 settembre invece il pubblico passeggio ospiterà il consueto mercato europeo con oltre 150 banchi provenienti da ogni parte del mondo. Crediamo che sia un evento anche questo molto importante, non dimentichiamo che nella stessa settimana ci sarà un mare di sapore in piazza Cavalli dove potremo degustare tutte le bellissime e buonissime proposte che propone il Consorzio dei Salumi.